Ragazzi, l'ho preso al Day One il 6 giugno 2018 Adesso siamo, beh, non mi ricordo che giorno siamo oggi Ma ragazzi, quando lo pubblicherò è molto ma molto in ritardo E' un gioco che aspettavo da molto tempo Va in vir, per altri problemi e altri impegni Non ho potuto portare il video Day One e il video unboxing vampire Vediamo, maledetta sia la scelta Londra 1918 Sei il dottor Jonathan Reid E sei appena diventato un vampiro Come medico devi trovare una cura per salvare i cittadini Infetti dall'influenza come vampiro Sei condannato a nutriti di coloro che hai giurato di curare Perciò praticamente ci dobbiamo nutrire di chi abbiamo giurato di curare Secondo me sarà un gioco epico Perché a me piace la storia dei vampiri, la storia del conte dragole La storia dei castelli E un qualche voto della trazivana che qualche volta ci devo vantare Cioè sarà un mega e ultra gioco Noi ragazzi ci rivediamo qui in un prossimo video Ah, sì, vi faccio vedere che davvero Vampir l'ho acquistato il 6 giugno 2018 E noi ci rivediamo qui in un prossimo video Grazie ragazzi